E' la Jürgen Stahl, momento decisivo, momento importante numero 2. Ora i risultati del secondo turno per la successione di Didier Burkhalter. Schede distribuite 246, schese consegnate 246, schese in bianco 2, schese nulle 0, schese valide. 244, maggioranza assoluta 123, è eletto con 125 voti, consigliere nazionale è Ignazio Cassis. Ignazio Cassis è il 117 consigliere federale della storia, l'ottavo per il canton Ticino, un momento storico oggi. Guardiamo che ore sono, sono le 9 e 15 di questo 20 settembre fuori da Palazzo Federale. Ha iniziato anche a sorgere il sole per illuminare un Palazzo Federale, per illuminare una Berna, una Svizzera oggi più unita. 125 voti al secondo turno, un ottimo risultato.